Bella raga io sono Valerio e io sono Sespo e siamo i Valespo Valespo Alla raga oggi stiamo qui col primo video ufficiale Mamma mia il primo video del canale Valespo E cosa andremo a fare oggi? Allora oggi andremo a fare una cosa che abbiamo sempre voluto fare Non è vero io ne ho mai fatto Io neanche però è figo dirlo Ok è sempre un sogno di una vita Il sogno ci andremo a fare le unghie da donna E ho paura perché c'ho Rosalba a casa Che c'ha sempre queste unghie grandi e non riesce a fare niente Tipo non riesce neanche a prendere le monetine per terra Perfetto io invece non c'ho nessuno Però Te c'è Montesi che si fa le unghie Io Montesi ho sempre le unghie Mamma mia non ce la faccio più E poi proveremo a fare delle cose che si fanno durante la giornata Per vedere il dolore che provano le ragazze Ma c'è solo un problema Allora noi andiamo lì e poi quando ce le togliamo le unghie Perché non so se ce le possiamo togliere subito O se ce le possiamo staccare No lo staccare non si può serve tipo il trapano Non so come funziona Ce l'hai un trapano qua? Sì però ho sempre un trapano sotto il tappeto Va benissimo No comunque Però abbiamo l'appuntamento fra un quarto d'ora E sta a due chilometri di distanza E dobbiamo andare in monopattino Quindi siamo all'interno e dobbiamo andare adesso Ma come monopattino andiamo a corsa? Attività fisica Stapancia Attività Eh brava Scrina Eh Quindi c'ha degli addominali Vabbè andiamo Ok volevo dire Questo è il primo video di una nuova serie Perché qui sul canale Valespo Inizieremo delle serie E questa serie si chiama? I Valespo provano cose nuove 1, 2, 3 Ok più o meno si chiama così Noi proveremo sia cose estreme Che cose normali Tipo farsi le unghie Sono cose normali Ma che non abbiamo mai fatto nella vita Quindi mi raccomando Nei commenti consigliateci cose Perché noi già abbiamo in mente Molti video da fare Che sono più estremi Tipo bungee jumping Perché faremo insieme Paragatutismo però lui non c'ha il coraggio Lui non è il coraggio Oggi davvero paparagatutismo Lui ha fatto No paura No sono paura Ho giocato a fornette tutta la notte Non mi va È quello che ha detto lui È quello che ha detto lui Comunque no Consigliateci nei commenti Delle cose da fare E presto vedrete tantissimi video qui E mi raccomando Iscrivete al canale Perché dobbiamo superare ogni record Di arrivare al milione Entro fine anno Un milione in 5 mesi Ce la facciamo Ovvio che ce la facciamo Perché siamo i più forti Ora andiamo a farci le unghie Regà siamo qui In monopattina in 2 E stiamo andando A farci le unghie Woo E niente Speriamo di non cadere Te le puoi togliere quindi Speriamo Non riesce a me Non riesco a capire Che colore lo vuoi bro? Io Azzurro Azzurro Così? Quale dietro? Se no facciamo Ogni dito un colore Si può fare Mi sa che costa di più Ma solo un colore Solo un colore possiamo scegliere Così Ma qua Ma se avrebbe fatto tipo Un dito di un colore Un dito di un altro Si può fare No Ma si a tre colori Ma si a tre colori Ok No 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 Fai rosso Blu verde Rosso Blu verde Rosso Blu verde Rosso No No E' troppo complicato Faccio una mano rossa Una mano gialla Della Roma Dai Facciamo una Gialla non c'è Un azzurro e uno rosso Perché azzurro No bravo Viola Viola Perché? Perché Ok abbinate con la maglietta Ok tutto è viola Tutto è viola Tutto è viola Che cringe Questo 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 Ci sta questo Questa maglietta Sì stanno a fa lunghe perfette Rilassante o fa male Fa male Veramente Ok Alla prima volta Io non mi sono mai fatto neanche manicure Casi così Fai così Ah ecco qua Frate si è rottordito Ti hanno messo No ci stava spiegando come si toglieva Ti avrei detto veniamo qua a toglierlo dopo Cioè Non ce la faccio a rimanere più di tanto tempo così Ah Fa male questo No non fa niente Ok Oddio Però è caldito Se fa il laser Steffa Mo togli tutti i peli C'è un problemino qua C'è un problema Noi vogliamo le unghie lunghe E invece Bro Glielo dici Ah bro Non ce le parli Glielo spieghi Che in realtà Le unghie lunghe No il colore Eh poi gli ha sblocato Quelli lì Ha detto Devi fare le unghie lunghe No te lo giuro Bro ma come fate a dire Lo spiego io Guarda Io spiego io Scusi Una cosa ma Per fare le unghie lunghe Per fare le unghie lunghe Tu non hai fatto la contata Non abbiamo tempo Non abbiamo tempo No Al fatto solo Chiedere solo se mi dava niente E quella lunghe come si chiama Ricostruzione Medina O dire Comunque le persone sono appena entrate T'hanno dissato E ho detto Mamma mia Che imbruttisci Oh Non lo fare eh Mamma mia Tu sei bella Ma ste unghie Ti s'abbinano proprio Te si matchano bene Alla Alla Canotta Ora mi devo togliere Spreco 50 euro Grazie 50 euro Meglio stesi della tua vita Vero bro Ok raga Mi sto completamente vergognando Di andare in giro così È patetico Sono le unghie sbagliate A noi servono quelle lunghe Per fare il video Ora quindi Dobbiamo andare a prendere il monopattino Dobbiamo cambiare posto E ce ne dobbiamo rifare Cambio destinazione Queste unghie fanno schifo E non sono lunghe Quindi non le possiamo usare Andiamo a spendere un'altra piotta Sperando che ce le facciano bene Questa è per un video Per un video Per un video È per divertirci Per un video Perfetto Sei pronto a questa ricostruzione E poi io sono andato in un altro posto Ma hanno letto la ricostruzione E mi hanno fatto questo È questa ricostruzione No Io voglio unghia lunga Ok questa è semigra Esatto Infatti mi sono incazzato Gli ho fatto Vabbè io vado a Lemon Spa Ecco Che qui sono più bravi Diglielo E pure più simpatici Vai Allora raga guardate Mi stanno a togliere lo smalto vecchio Col trapano E Comunque Ora mi stanno togliendo col trapano C'è anche lui che lo sta facendo C'è la mano nell'acqua Eh pure io prima Sto per svenire dal dolore Però fiamo finta di niente E basta Ci vediamo quando abbiamo fatto Mi sta a mettere lo smalto trasparente Non so perché Lui c'ha la doppia mano dentro Io dovrei stare con la mano qua Ma sto a vloggare E quella mano sta qua Quindi Ciao amore Comunque Noi abbiamo un milione di follower No? Di più Vabbè Io c'ho un milione di follower Capito? Su Instagram un milione È una cosa figa Io non capisco bene l'italiano Ah Viene l'inglese Capisci? English? Cinese Cinese Eh c'è lo quasi Oddio raga è uno spettacolo C'è già mi fa male così Pensate dopo Cioè Ok metto qui dentro Brucia tantissimo raga Non potete capire Mi fa malissimo urlo Prima ho urlato E quanto faceva male E adesso vi risparmio il mio urlo Quindi stacco prima Te che ne pensi? Ti fa male? Un dalle vita in due Sì Ok raga Ci stiamo facendo le unghie raga E gli abbiamo chiesto di arricchere la telecamera Perché non possiamo arricchere da noi Ci sono a fare le unghie Guardate le sue che picche sono trasparenti Sono enormi Adesso dov'è il colore? Però è qua Esatto Adesso lui farà il colore E ti di che colore te le fai? Io non lo so Io arancione fluo raga Io oro Ok lui oro Io arancione fluo Ok Ora stiamo facendo una figuraccia Perché semmai ci stiamo facendo le unghie Lui ha scelto blu Io ho scelto arancione fluo A me mi manca l'ultimo dito Sei fatta notte Siamo stati qua tre ore E lui si Fa vedere il colore tuo blu Che capito Ah ma è Vai lui è blu Ma quello è che fra un'ora ci rivediamo Esatto Eh torniamo qua Dobbiamo scoprirlo Torniamo qua Non si toccano qua No no Torniamo qua Torniamo qua Magari Sennò invece Torniamo Invece me lo smalto Vai Che spettacolo Oh no Madonna Sta a fuoco È fluo bro Sembra che sta andando a fuoco Guardami guardami Vedi Prova Regà è stra fluo Oh mio dio Ma si illumina al buio Questo si illumina al buio No però le luci infrarosse si Ti piace? È bellissimo grazie Scelto bene? Scelto benissimo grazie Adesso andiamo Bella roba Bravo Vale Bravo 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 pure lo sconto Ma che sconto? Ma dove lo io? Lo sconto Due piotte sono partite oggi E in più devi contare Che dopo dobbiamo pagare per farcele togliere Ok va bene pago io Quanto costa toglierle? Quanto costa? Quanto costa toglierle? 15 15 15 15 Grazie Grazie Vai provate ad aprirla Pro challenge Provate ad aprirla O ci sta è facile Sembri Edward mani di forbice Non so Ce la fai? Eh no per serio no Fammi provare a me Fammi provare a me L'hai fatto l'hai aperto l'hai aperto L'hai aperto Ullì Vai Iniziamo bene questa giornata Adesso sta diluviando fuori Però fa niente In serio mi fanno male le mani? Sì Abbiamo un po' capito Ho aperto un bar Se vuoi andiamo al mio bar Allora Ma raga mi vergogno così tanto Andarci Sta morendo a Milano Sta Sta diluviando Sta diluviando no? Adesso entriamo al bar Che prendiamo da mangiare? Qualunque cosa bro sto morendo Andiamo qui Al bar e prendiamo qualcosa da mangiare Offro io Vediamo Cosa bro ma che c'hai? C'hai le unghie Grazie Vai No preoccupi Hai fatto la pinta Ciao Buongiorno Sediamoci bro Ci sto a posto per due Belle le unghie Eh Sto a posto Eh sto per un video Dobbiamo vivere 24 ore come una donna Con le unghie Con le unghie È bellissimo Perché la donna ha solo il problema No 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 Ah Come facciamo vedere le cerette innanzitutto Vedi le unghie ma la ceretta? Adesso non ci ha fatto l'altra volta Com'è che andiamo a uscire? La conna? Eh vabbè Non esageriamo Già è tanto 200 euro ste unghie La costate La miseria Io so costate me la fai Ci mettiamo questi due Dove preferite? Qua? Di là? Di là Dove non c'è gente che può prenderci in giro? Come che vuoi fai da mangiare? Non lo so Eh appunto E questa è la challenge del gioco Vai bro Vai bro Apri la Ce la fai? Ce la fai? Ce la fai? Allora bro se fai così Quest'unghia spinge contro la pelle E non gliela fai Se fai così Quest'unghia spinge con questa pelle Ah che grande Questi sono i segreti Eh no Non vale quei denti frate Non vale quei denti Oh ci ha bullato Lei ci ha bullato Dai no Per povero E per mangiare così Oh Amma Buono Arrivata la pasta Vabbè è facile È facile Ah che ve lamentate Adò a dire Che ve lamentate Guarda è facile Ora lo faccio anch'io Ah aspetta Aspetta qua è un po' Ok Grazie mille Vabbè Grazie mille Per la pasta è facile Ahia Fa male Fa male Quando ti ringo così Fa male Dai è facile Vai bro Fai la scarpetta Però entrano tutte le ore Vai vai fallo bro Perché sono l'unione Quanto è il pane Quindi se faccio No Vai bro la scarpetta Ora dai così Che secondo il Galateo Dice Valerio Può fare la scarpetta Proprio Ah Vabbè Buono Sei troppo forte Allora Vai Dove prende il portafoglio Facile Più o meno Aia Fai male Vabbè fanno male le unghie Frate fai male Ma le mie sono puntite Come fate ragazzi Diviso assieme Insieme Insieme Ho fatto i soldi Vabbè Vabbè Andata bene Qua non si paga niente Grazie mille A voi Grazie Esattamente Bella No di lui No di lui Bro sta però Piove No Ok dai buono Ah Ah Fa la doccia Bro Allora guarda Prova a fare attività fisica Fai le flessioni Si fa le tele flessioni Vai Qua Dai bro Vai eh Ti preme Ti preme tutto qua Beh più che altro No bro Non ci pensare neanche Non ci pensare neanche bro Chiediamo alla gente cosa ne pensa Ci ha pisciato Ma le unghie erano belle Grandissime Ok Vai chiediamo No Ti prego Vai ok La domanda è Che ne pensa le unghie Sono belle Allora La prima persona che non ci prende in giro Eh sì La prima persona che non ci prende in giro Cioè in realtà ci sta prendendo in giro Senza dircelo Però allora In teoria noi vogliamo vivere Come le ragazze Perché loro dicono Che è difficile avere le unghie lunghe E quindi lo vogliamo provare in un video E questo è qua il risultato Come ci sono avvenute Bene Chi ce l'ha più bello Dici una cosa difficile da fare con le unghie Una cosa difficile è schiacciare un tasto Schiacciare un tasto E prendere le molestime Ok E prendere le molestime E usare la tastiera del computer Ci proveremo Ci proveremo Grazie mille Ok Chi ce l'ha più bello Io ho l'unico A me piace che non puoi essere Ecco Vabbè Grazie mille Gentilissimo Ciao Arriva comunque sta diluviando a Milano E io sto con le maniche corte Perché stamattina siamo usciti alle 11 Per il vostro video E adesso sto tirando Che freddo Ecco qua Ecco qua Ecco qui Una monetina 5-30 Facciamo così Ops No frate per strada Ma ora ci investono Ok La moneta che provo io Provo io Vediamo quanto ci metti Mettiamo il timer Eh sì Passano le macchine Che timer Il timer Guarda questa è letteralmente passata sulla monetina Ah no si è spostata Cioè mo passano le macchine Quando ti raccogliere Ok bro Appena passa l'ultima macchina c'è il timer Quella rossa No 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 timer dai Va bene Vai bro Eh no ma c'era il buco per terra No c'era il buco per terra Mettila qua Vai È facile frate Come è facile Perché devi alzarla E perché tutte le ragazze piangono Devi metterla col dito Guarda Devi mettere col dito Eh giù E alzare Dai Frate è facile Eh bro ma io ce l'ho a punta Eh forse perché io non ce l'ho a punta Fermo Fermo Ah Eccolo L'hai fatto Senta L'hai fatto Eeeh Allora ripeti con dentro No dai bro tengo io non fai niente No ripeti dentro Sto ponendo con le unghie Bru prendiamo i macaroni abbinati alle unghie Vai Vai Ok Vai No offri te Ciao 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 Vorremmo questo abbinare alle unghie Vorremmo i macaroni abbinati alle nostre unghie Ok Se è possibile Allora i miei ci sono e quelli al centro no Beh blu blu Ti fai quello blu la Oddio è vuoto Come ti è vuoto Che zio Ma non è il Aspetta La meringa tipo Ah la meringa La meringa è buona La meringa da piccolo Cioè fa ingrassare tantissimo è una bomba Fa ingrassare Insomma cioccolato all'interno eh Poi c'è lo zucchero Da me non c'è cioccolato Badoo cioccolato e bianco Perché non ti piace il cioccolato No 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 Ah Fai ingrassare Madonna mia Ragazzi adesso per due giorni dopo un macaron Fate le mie No perché noi dobbiamo Non fa male Però è veramente strano Ah ecco qua Me l'ha rotto Ma ha rotto l'unghia raga L'ha rotto il dito Oh gli ha cortito Facete il video mio Raga per favore Centomila like Raga lasciate subito like Iscrivetevi all'istante Oh però così corte io le terrei No Sério sì Mi danno anche la schiena Non ce la faccio Me ne tagli una a me Ma 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 Io voglio fare le due direzze Ok Vedi vedi Lei vuole farla Ci siamo tolti Le unghie E è riuscito il sole Cioè Cioè sembrano tre giornate diverse No no più che altro Quando abbiamo le unghie corte C'è bel tempo Quando abbiamo le unghie lunghe È brutto tempo Raga finalmente tornate Non ce la faccio più Siamo durati un'ora e mezzo Consigliateci nei commenti Altri video da fare Altre cose da provare E niente ragazzuoli Noi ci vediamo con un prossimo video Qui da Valespa è tutto Bella raga